in manifestazione esterna le leggi del pensiero amedeus volben a cura di vb la nostra vita ha lo stesso ritmo che hanno i nostri pensieri noi parliamo in fretta agiamo in fretta perché la fretta è dentro di noi nei nostri pensieri l'ansia di vita la sete di guadagno il modo di vivere agitato sono la proiezione esterna dell'ansia e dell'agitazione che abbiamo dentro tutto ciò che portiamo in manifestazione esterna come disordine impazienza ira paura nomadismo rumori eccetera sono soltanto il riflesso del mondo interiore dei nostri pensieri oggi più sconvolti che mai il gesto lo sguardo il camminare il parlare tutto rivela nell'uomo il ritmo interiore che lo muove anche se i ritmi si alternano resta il motivo fondamentale che dà tono alla vita di ciascuno mettere ordine ai propri pensieri e modificare questo ritmo riportando nella giusta misura ciò che disarmonia il filosofo tranquillo il saggio sereno rivelano nella vita di ogni giorno quella musica interiore scandita al ritmo della pace che regna dentro grazie al pensare calmo e sereno